Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono, Natascia, la console e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it Siamo anche su Facebook dove ci potete trovare digitando Radio Speranza. Apriamo con una notizia che arriva dal Consiglio regionale abruzzese che martedì discuterà il progetto di legge per prevenire la dipendenza dal gioco. La proposta definisce sale da gioco tutti i locali che ospitano macchinette da gioco che danno premi in denaro e introduce il concetto della distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili individuati dalla norma. Tutte le scuole, gli istituti professionali e le università, tutte le strutture sanitarie e i cimiteri e le camere mortuarie. Si propone che le attività commerciali abbiano 5 anni per dismettere le macchinette. La Presidente della Commissione regionale sanità, Veri, ha promesso misure per la riabilitazione dei ludopatici. Sono state trasferite finalmente al Commissario le risorse, lo afferma il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, parlando a margine del Festival dell'Acqua all'Aquila a proposito del sito di bussi sul Tirino a Pescara. Adesso l'importante è definire le priorità e bloccare l'inquinamento, aggiunge Orlando. Nei prossimi giorni convocherò un tavolo per mettere la parola fine su questo tema, sul quale da mesi stiamo lavorando sulla attività istruttoria. Per il sito di interesse nazionale le risorse stanziate sono pari a 50 milioni di euro, come confermato dal Ministro Orlando. 21 lavoratori dell'Allegatoria d'Ancona sono in mobilità dal 30 settembre scorso e dal 1 ottobre in cassa integrazione per una durata massima di 12 mesi. Dopo una prima fase di attività necessaria alla messa in sicurezza degli impianti macchinari, verranno messi in mobilità dato che l'azienda ha ormai deciso di cessare l'attività. Ma grazie al progetto Linfa della provincia di Pescara, riceveranno orientamento, riqualificazione ed eventuale ricollocazione con il supporto delle agenzie private per il lavoro e degli organismi formativi accreditati. Nel secondo trimestre del 2013, ossia da aprile a giugno, restano ancora in territorio negativo le esportazioni dei cinque distretti abruzzesi, che fanno registrare un meno 7,9%. L'Abruzzo è una delle regioni con più difficoltà sul fronte dell'export, in controtendenza rispetto al buon andamento dei distretti del Sud Italia. Sono questi i principali risultati che emergono dal monitor dei distretti dell'Abruzzo, curato dal Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo per Banca dell'Adriatico. In oltre 100 piazze italiane, sabato prossimo, 12 ottobre, si celebrerà la terza edizione della giornata contro il dolore, organizzata dalla fondazione scientifica ISAL. L'Abruzzo quest'anno è destinato a recitare un ruolo di primo piano, sia per il numero elevato di città in cui saranno allestiti i banchetti informativi, sia per il fatto che un'azienda abruzzese, per la prima volta, sarà partner ufficiale della manifestazione. Ne parleremo a servizio di interviste oggi alle 18.15 e domani alle 7.35. L'Università Luis Guido Carli, l'Ateneo di Confindustria, aprirà il 26 ottobre a Roma le sue porte agli studenti delle scuole superiori abruzzesi del quarto e quinto anno presso la sede di Viale Romania, per rappresentare la sua offerta formativa ed il nuovo test d'ingresso, cui sarà possibile iscriversi a partire dal 15 ottobre. Obiettivo dell'iniziativa sarà fornire a tutti gli interessati informazioni dettagliate sull'offerta formativa, sulle modalità di ammissione e sulle strutture e i servizi che caratterizzano l'Università. Domani, alle 18, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara, Penne, presiederà presso la Chiesa Cattedrale di San Cetteo in Pescara la solenne celebrazione eucaristica in occasione della Festa di San Cetteo, vescovo e martire e patrono della città di Pescara e dell'Arcidiocesi di Pescara, Penne. Alle 19 è prevista la processione con la statua del Santo. La Cassa è di tutti. Questo è il titolo dell'incontro organizzato da Pax Christi Italia con l'Arcidiocesi di Pescara, Penne, con Marco Bersani di Attac Italia sui diritti dei cittadini sulla Cassa, depositi e prestiti. L'appuntamento si terrà nel Salone Parrocchiale, in Piazza Spirito Santo 2 a Pescara alle ore 18. Una veglia di preghiera in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l'Europa. Questa è la volontà della comunità di Sant'Egidio che animerà a Pescara l'appuntamento di venerdì 11 ottobre alle 19.30. La celebrazione, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara, Penne, si svolgerà nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo sulla riviera del centro adriatico. E si aprirà con un incontro testimonianza speciale la 14esima edizione di Io, tu volontari, l'attività di promozione del volontariato nelle scuole superiori di Pescara e provincia ideata e promossa dal CSV Pescara in collaborazione con l'ufficio regionale scolastico. Mercoledì 23 ottobre interverrà Giorgia Coppari, insegnante e scrittrice. L'appuntamento è alle ore 15.30 presso la sala consigliare del Comune di Pescara. E il prossimo 18 ottobre si terrà il primo seminario infoeducativo sul tema Il risparmio energetico, questione economica e questione ambientale organizzata dall'Associazione Contribuenti Italiani e dal CIPAS, Centro Italiano di Proposta e Azione Sociale. L'incontro si terrà alle ore 17.30 presso la sala conferenze della biblioteca della regione Abruzzo in via Tiburtina 91 a Pescara, nelle adiacenze del quotidiano Il Centro. E sarà occasione per firmare per il progetto Uno di noi, con cui si chiede all'Unione Europea di riconoscere il diritto alla vita dal concepimento della morte naturale. Ci sarà infatti Pino Morandini, vicepresidente nazionale del Movimento per la Vita. Venerdì 11 ottobre presso la chiesa cattedrale di San Cetteo in Pescara si terrà l'incontro dei gruppi di preghiera di Padre Pio dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, alle 16 l'accoglienza e l'adorazione eucaristica, alle 17 la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro, direttore generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, alle 18 la concelebrazione presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Saranno due gli incontri nell'approssimarsi della giornata nazionale delle offerte per il clero che si terrà domenica 24 novembre, d'intesa con l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti e l'equipe diocesana. Il primo, quello di martedì 15 ottobre alle ore 10, presso il ristorante L'amicizia a Bisenti, sarà per le foranie di Penne, Cermignano e Castiglione Messerraimondo. Il secondo, quello di giovedì 24 ottobre alle 10, presso il centro pastorale Monsignori Annulcin, in strada Colle San Donato 56 a Pescara, riguarderà invece le foranie di Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti, Città Sant'Angelo e Torre dei Passeri. E domani si rinnova per il terzo anno consecutivo l'iniziativa Un sorriso per la Croce Rossa italiana. L'obiettivo è consentire una giornata diversa ai ragazzi ospiti dell'oratorio Don Bosco di Tocco da Casauria e presso il centro arcobaleno di Popoli. Una giornata immersi nella natura, con gli animali, amici del disabile, e i volontari della Croce Rossa italiana del comitato locale di Cepagatti. Quest'anno l'iniziativa si tiene a Civitacuana presso l'aurora della vita Onlus, in contrada Olmo della Biocca. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede pioggia con temperature da 15 a 17 gradi e 20 deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 13 gradi e mezzo a 24 gradi e 20 da deboli a moderati. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. In chiusura vi ricordiamo che la nostra emittente, Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87,6 MHz, ma anche sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ed è presente su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica.